Ragazzi benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi siamo qui con il quarto video di oggi Quarto video di oggi 3 su Fortet Siamo nel profilo di Sniper Vedete siamo nel profilo di Sniper Questo è uno screenshot E raga voi direte Vabbè non c'è niente di strano Non c'è niente di male No Guarda Guardate raga Guardate Guardate Raga cosa sta succedendo oggi a Fortet Oggi cosa sta succedendo a Fortet Si è fatto le canne a Fortet Vabbè raga dai iscrivetevi Lasciate un mi piace Qua un commento qua sotto E qua sotto trovate il link Per andare al mio profilo Instagram Più sponsorizzo e meglio è Bella raga Ci vediamo in un prossimo video Anzi speriamo di nuovo In un prossimo video Però vabbè Dai raga Alla prossima